Prima di cominciare il video vi volevo ringraziare per i mille iscritti e niente, grazie a tutti. Vediamo se mi ricordo come si fanno i video. Ciao a tutti, allora scusatemi davvero tantissimo per l'assenza, ho avuto tanto da studiare ultimamente, sapete che sono sotto esami, ho la maturità. Siccome oggi ho il pomeriggio libero, vorrei parlare con voi di tante cose, perché ultimamente nel mondo del calcio ne sono successe di tutti i colori. Quindi andiamo a toccare un po' di argomenti. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa, 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 scusa per non aver fatto uscire il video su Fiorentina Milan, ma era una festa, però sono riuscita un po' a vederla e un po' a non, perché mi hanno raccontato un po' come è andata la partita, abbiamo vinto. Non mi sembrava corretto fare un video su una partita che non ho visto. Giochiamo domenica con il Frosinone, l'ultima partita di campionato in casa. Dovrebbe essere facile sulla carta, perché comunque il Frosinone è già retrocesso, però se conosco il Milan si farà la pupù addosso anche con il Frosinone. Speriamo di fare una partita di testa, e non di tecnica, di quello che volete, di testa, perché queste partite si vincono soprattutto con il carattere. È stata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ha vinto la Lazio 2-0 con un gol di Milinkovic Savic, bellissimo tra l'altro, su calcio d'angolo, colpo di testa incornata sul secondo palo, veramente bello. E il secondo gol all'ultimo minuto, al novantesimo, mi sembra, di Correa, che praticamente Caicedo spazza via la palla, Correa, c'è un motivo se si chiama così, va presso il pallone, perché dire Correa che corre segna un gol con una freddezza allucinante. C'è stato un episodio che fino all'altro ieri ne parlano, oppure se mi affaccio al balcone i vecchietti qua sotto ne stanno parlando, è questo famoso rigore... Qua si è un attimo interrotta la registrazione, io quelle poche volte che registro la gente mi chiama. Stavo dicendo questo famoso episodio del rigore inondato all'Atalanta, in cui praticamente mi sembra uno tra basso se Caicedo, non me lo ricordo... Praticamente la palla, fate finta è questa la palla, la devia, va tipo così. Cioè potenzialmente è calcio di rigore. Ora, io non so cosa hanno visto al VAR, probabilmente se stavano a fare un panino e una birra, che stanno a dire che la Lazio ha rubato la partita, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto sta che ormai la Lazio ha vinto la sua settima Coppa Italia e tanto di cappello. Io adesso non so se sia una buona cosa che l'Atalanta ha perso la Coppa Italia. Molto simpatico Erfaina che su Instagram o sulle storie mette un collage, in cui sopra c'è il rigore inondato all'Atalanta e sotto il famoso gol di cutrone di gomito. Mo, allora, io non avevo il canale YouTube, però nelle mie storie di Instagram dell'anno scorso praticamente, lo dissi appena questo segnato. Non è mai gol, io non ho capito perché con la VAR non hanno tolto il gol di cutrone. Il fatto sta che ce l'hanno ancora qui, sto episodio, è tipo il 71esimo di Lulic, 26 maggio, Coppa in faccia e quando me passa. Parliamo di questo benedettissimo Juve-Atalanta, che a parte che non ci hanno concesso di giocarlo alla stessa ora, perché ovviamente l'Atalanta saprà già quello che il Milan ha fatto e quindi si regolerà di conseguenza per non farci andare in Champions League. Vabbè, ma questo è superstizione da tifosa del web, diciamo. Se la Juve ci fa sto regalo, per favore, cara Juve, guardate, me fa il regalo della maturità che vinci perché, raga dai, non è possibile che la Juve perde due partite di fila, ok? Che hanno vinto lo scudetto da ottobre, però cazzo, cioè non è possibile che tu non vinci per tre partite di fila. Secondo me, anche il fatto che giocano in casa, cioè devono vincere la stessa partita, perché non è possibile. Non è possibile che non te ne frega più niente, cioè. Allora, io la penso così, sentite questo mio ragionamento. Secondo me, se tu hai vinto lo scudetto matematicamente già da dieci giornate prima che finisci il campionato, non è che dici, vabbè, basta, chiudiamo i battenti, tanto ormai è andata. Se hai la mentalità da grande squadra, tu comunque devi giocartela fino all'ultimo pallone. Secondo me, cioè, tu ti devi impegnare a prescindere all'inizio fino alla fine. Non è che se vinci dieci giornate prima il campionato, poi dici, basta, no, non giochiamo più, già tutti in vacanza. Cioè, scusate. Almeno io la penso così, cioè, poi fatemi sapere nei commenti quello che ne pensate. Del grandissimo allenatore della Juve, ed è questo il prossimo argomento di cui voglio parlare. Acciughina, detto anche Massimiliano Allegri, detto anche ex allenatore del Milan, lascerà la Juventus. Infatti, le prossime due partite saranno le ultime sulla panchina bianconera e la sua destinazione, si dice, si dice che sarà anche fuori dall'Italia. Quindi, l'hanno accostato un'altra volta al Milan, per l'amor di Dio no, per l'amor di Dio no. Io ho sentito che potrebbe andare al PSG. Io ho sentito questo. Poi, non lo so, gli hanno offerto una cosa come... una cifra esagerata, 15 milioni. Secondo me, i tifosi juventini, tipo adesso, sono scesi in piazza Torino a far festa. Anche in Calabria, secondo me, stanno a far festa, perché sapete come si dice, no? Juve in trasferta, Calabria deserta. Altre due notizie molto belle, è che il Brescia ha vinto il campionato di Serie B, quindi è in Serie A dopo otto anni, mi sembra. Sì, dopo otto anni è tornato in Serie A. E' bello, perché siamo gemellati con il Brescia, vedremo un bel Milan-Brescia gemellato. Sono contenta per il Brescia, perché c'è un certo Tonali che il Milan ci sta tipo così, che lo guarda e che lo vuole nella squadra. Lo vorrei anch'io, per carità, cioè c'ha l'età mia Tonali, del 2000, oddio. E poi è stato promosso il Lecce, in Serie A. Per l'amor di Dio non voglio rivivere un da un 3-0 a 4-3, 4-3 Iepes è finita, per favore, non lo voglio rivivere. Sono contenta che il Lecce è tornato in Serie A. Un'altra news è che De Rossi lascia la Roma. Cioè, non è che lascia la Roma. Allora, diciamo che avete presente quella meme di See You Again del video quando le due macchine si dividono? Ecco, qui c'è De Rossi, qua c'è la Roma e tipo si dividono. E mi dispiace, perché dopo 18 anni è una bella botta, è una bella botta. Che poi, non è che dici, vabbè, è vecchio, si ritira dal calcio. Attenzione, lui vuole ancora giocare e nella sua conferenza, io me la sono vista la conferenza di De Rossi, ha detto che praticamente non l'hanno chiamato tutto l'anno per un possibile rinnovo. Cioè, praticamente l'hanno mandato via a calci nel sedere. Cioè, ma che è sta storia? È l'ultima, ragazzi, è l'ultima bandiera rimasta. È l'ultimo guerriero del 2006 che è rimasto. Cioè, raga, il mio vi è da piagne. Cioè, secondo me, De Rossi dopo Totti è un leader, un campione nato, ma proprio a livello, magari anche sì tecnico, ma proprio a livello di spogliatoio è un campione, secondo me. Io non lo so adesso quale sarà il futuro di De Rossi, perché si parla addirittura di una trattativa con l'Inter. Secondo me, allora, sapete che vi dico, non è mai vera per il semplice fatto che De Rossi, se è un romanista vero e rispecchia tutti i romanisti, non giocherebbe mai contro la sua Roma. Vi giuro che appena finirò gli esami, si riparte a bomba con YouTube e soprattutto con il calciomercato. Quindi, se state, ci divertiremo insieme. Se cerchiamo di prenderci questi ultimi sei punti contro Frosinone e Spal, fatemi sapere nei commenti quello che ne pensate di tutto quello che ho detto. Iscrivetevi al canale, qualora non l'aveste ancora fatto. Mettete mi piace, condividete. Niente, non mi sembra di aver detto tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!